Bella raga, io non sono Foxy. Io sono Foxy. Ora raga, io sono sempre su Villa Abate e questo è un nuovo vlog. Io mi presento, sono suo compagno di classe e forse oggi ci divertiremo. Allora dovremmo andare a mangiare pizza al ristorante, però c'è, siamo a Villa Abate, questa è la mia strada, si può dire. Poi al ristorante c'è, allora mangeremo pizza familiare, non solo le due ci staremmo prendendo femmine. E poi faremo cose belle. Si vedrà poi mangeremo pizza, non sappiamo come ordinarla, come la mangiamo. Patatino, patatosa con buster. Mi raccomando eh, iscrivetevi al suo canale, nei commenti, come immagine c'è la figura di Foxy, quella di Fanatest Freddy's. Non so come si dice però. Fanatest Freddy's. Spero che questo vlog vi piaccia. Aspetta che non vogliono che ci riprendo, metto pausa. Ok, è ripreso. Raga, ok, siamo ripenuti, ci sono le femmine. Non vogliono essere riprese, non sappiamo perché, vi giuro. Vabbè, adesso ci dirigeremo in pizzeria, poi si vedrà. Ci vorrà prendere il padre del, di una. Non voglio sapere il nome, quindi meglio di non dirlo. Aspetta, vuole caricini. Ovvio. Seguiamoci. Guardate l'immagine che bello. Facciamoci vedere l'immagine. Raga, guardate l'immagine. No. Guardate. Ok, danno. Grande. Zio. Bella, zio. Era capace. Per ora stiamo aspettando le femmine. Sapete come le femmine parlano sempre? Fanno aspettare, tanto. E siamo andati al cinema a vedere il viaggio di Arlo. Molto commomente, bello era. Vi consiglio di vederlo. Sì, è molto bello. Sempre che non sia finito. Molto bello. Pausa. Ciao. Ci vediamo tra poco. Ciao. Rieccoci. Guardate il cagnolino. Guardate il cagnolino. Guardate il cagnolino. Ah, non si vede. Non si vede, raga. Ok, stavo scendendo. Eccolo lì il cagnolino. E adesso, raga, farò il salto della fede. Ora, raga, come ci ha insegnato il nostro anima. 3, 2, 1, go. Ok, va. Vi consiglio di passare al suo canale. Se non li conoscete, non siete nessuno. Conoscete i mates, vero? Sì, ovvio. Sì, ovvio. Ehm...